Un imprenditore torinese mi ha detto lei mi sta facendo sognare il generale mi è venuta un'idea scrive il libro il generale mi fa sognare noi dobbiamo far riprendere la macchina al nostro paese poche chiacchiere il generale non è che va lì in piazza faccio filosofia io non faccio filosofia faccio atti concreti arriva per esempio faccio un esempio andiamo terra a terra Salvini toglierò le accise ma il governo non fa niente e le accise sono rimaste del suo abbenzinato io cosa faccio? supponiamo che io diventi il capo del governo abbiamo fatto un programma politico su 72 punti in tre giorni approviamo tutti i 72 punti chiudete le porte carabinieri chiudete le porte fino a quando tutti i ministri non approvano un conclave un conclave come quando si fa il Papa chiudiamoli a chiave i 72 punti devono essere approvati in 24 ore e devono essere esecutivi il giorno dopo quando io dico che tu hai il reddito alle calcassariche deve essere approvato quella sera stessa non a perdere tempo non ci sono soldi i soldi ci devono stare si devono tirare fuori signori noi nel nostro simbolo c'è scritto si cambia musica ma noi cambiamo musica sul serio dovete capire che se noi e franco grazie